Grazie, intervengo sull'ordine dei lavori per anticipare a microfono in Consiglio Comunale la richiesta di una commissione ambiente urgente, dato che nonostante la presenza di quasi più di mille cittadini l'altra sera e la richiesta di interrompere i cantieri di DM4 e gli abbattimenti, questa mattina sono state posizionate i jersey di cemento attorno al cantiere. Se questa è la risposta dell'assessore lo intimiamo ad interrompere e a relazionare in commissione prima di procedere. Questo per noi è fondamentale, dato che non è accettabile che si vada avanti in questo modo senza ancora aver chiarito al Consiglio Comunale i progetti di DM4. Brevissimo, non è propriamente sull'ordine dei lavori del Consiglio, però... Consiglio Campato, prego. Grazie, Presidente. Era in realtà per lo stesso motivo l'incrocio con l'ordine dei lavori del Consiglio anche se l'assessore vuole relazionare in consiglio invece che in commissione, questo può essere naturalmente una integrazione anche del nostro ordine del giorno e dei lavori di lunedì. Però effettivamente, avendo in consiglio, quindi ormai da settimane, innanzitutto il Consigliere Calise ha chiesto che ci fosse prospettato almeno che cosa si intende fare su questi alberi, che una risposta in consiglio, in commissione, in qualsiasi modo venga data prima di procedere, come invece ci si sta già organizzando per fare, all'abbattimento di centinaia di alberi, credo che sia un fatto anche istituzionalmente rilevante. Grazie. Grazie, Consigliere Pasquale.